Firenze, che già ai tempi delle corporazioni usava abitualmente mediatori per risolvere controversie, si propone oggi come punto di riferimento per la composizione delle dispute commerciali internazionali. FIMC, Florence International Mediation Chamber, è un servizio appositamente creato da Camera di Commercio di Firenze per gestire procedure di mediazione internazionale rivolto sia alle imprese italiane che hanno rapporti commerciali globali, sia alle imprese di ogni altro paese che desiderano scegliere Firenze per risolvere le proprie controversie. Gli altissimi standard qualitativi sono garantiti da un elenco di mediatori provenienti da tutto il mondo, qualificati non solo per la gestione di controversie commerciali, ma anche per interagire con parti di culture diverse. Tutti i mediatori sono certificati da organismi che applicano gli standard di IMI, International Mediation Institute, istituzione no profit con sede all'AIA promossa dai maggiori utilizzatori della mediazione a livello mondiale. Il prestigio della sede nel cuore di Firenze costituisce un motivo in più per scegliere i vantaggi della mediazione internazionale. FIMC lavora anche per l'inserimento della clausola di mediazione in contratti commerciali, fornendo consulenza per predisporre il contenuto più idoneo in ogni singolo caso. A un solo anno dalla nascita il nostro organismo di mediazione internazionale è già diventato un punto di riferimento. Gli ingredienti sono semplici, abbiamo una città meravigliosa con dei professionisti mediatori certificati da ogni continente che hanno apprezzato quindi maggiormente la possibilità di vedersi qua e risolvere le loro controversie. Se pensiamo che il nostro organismo ha anche un protocollo con New York e Singapore e è stato partecipe ai tavoli dell'ONU per la mediazione internazionale e per le regole, possiamo essere soddisfatti.